Adesso è arrivato un momento che ti riguarda in prima persona perché ho visto passare l'ospite che devi intervistare. Assolutamente sì, oggi è la giornata dedicata alla letteratura e abbiamo un ospite, siccome siamo qui a Montorio, abbiamo un ospite montoriese che si è prodigata e continua a prodigarsi tantissimo per diffondere un messaggio di cultura, per invitare alla lettura appunto e devo dire che la cittadinanza segue tantissimo queste proposte. Stiamo parlando di Luciana del Grande che appunto abbiamo visto passare, quindi Federico ti lascio sotto l'albero di Natale, io vado dalla nostra ospite, quindi a dopo. Quindi guardiamo insieme l'intervista. Ma fai attenzione che gli occhi con gli specchi dell'alba ti piace? Sì! Grazie! 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 Eccoci tornati, siamo ancora nel Chiostro degli Zoccolanti qui a Montorio Alvomano e siamo qui per presentarvi un ospite con grandissimo piacere che ha animato questo chiostro e l'intera Montorio Alvomano, grazie al potere della letteratura. Stiamo parlando di Luciana del Grande, Luciana grazie per essere venuta a trovarci. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito. È un piacere, noi entriamo subito a parlare di questa rassegna culturale, libri dal vivo nel chiostro che sta avvolgendo alla fine. È una rassegna particolare perché porta non solo gli autori a conoscere la cittadinanza, a Montoriese non solo, ma siete riusciti a dare proprio vita ai loro libri grazie a delle letture, quindi è una maniera molto interattiva di vedere i libri. Sì, siamo molto soddisfatti dell'apprezzamento del pubblico. Sì, si può parlare di cultura in qualsiasi modo, ma in qualsiasi modo si faccia. È importante comunque che abbia un ruolo prioritario nella vita comunitaria del Paese. Noi ci abbiamo provato e dobbiamo dire che ci siamo anche riusciti. Siamo riusciti a creare appunto aggregazioni intorno alla cultura, quello che in realtà volevamo. La rassegna è stata curata da me e Clementina Chiavatti. È un progetto nato dalle associazioni di Fiti Zero Abruzzo e Onde Libere e c'è stata anche la collaborazione della Biblioteca Civica e della Biblioteca del Ricordo. È infatti un incontro, l'abbiamo avuto proprio alla Biblioteca del Ricordo. Abbiamo cercato di creare un palinzesto che potesse il più possibile raggiungere i gusti letterari dei cittadini. Devo dire che in tutte le presentazioni le letture sono state curate dai ragazzi. Poi coinvolgere i ragazzi è forse il modo più diretto e anche il più efficace per appunto avvicinarli alla lettura, all'arte, alla conoscenza, perché spesso quando le cose si guardano dall'esterno sembrano sempre così lontane. Invece quando poi si ha in mano il libro e ci si deve preparare per una performance, per qualcosa si va, poi ci si immerge veramente all'interno. È stato così emozionante. Infatti perché poi i ragazzi hanno a loro volta invitato altri amici ad assistere alla presentazione del libro. Quindi ad ogni presentazione abbiamo avuto sempre tanti giovani. E addirittura in una presentazione in particolare tre ragazzi che hanno letto hanno voluto poi proseguire a cena con l'autore. Quindi è stato bellissimo averli, cioè continuare questo... Una bella soddisfazione deve essere stata, perché si dice tanto che questi ragazzi sono distanti, no? E invece quando hanno la possibilità, secondo me, accolgono ben volentieri quello che gli viene proposto, soprattutto quando la proposta è di qualità, no? Noi li abbiamo visti veramente molto coinvolti. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che ad ogni presentazione noi abbiamo voluto approfondire il tema di cui si andava a parlare con un esperto proprio del tema che trattavamo. Ad esempio nel libro di Mariano Sabatini, dove si parlava appunto della televisione e della comunicazione, quindi abbiamo invitato come ospite il professore Andrea Sangiovanni, che è docente all'Università di Teramo ed è esperto proprio in comunicazione e in televisione. C'è stato un momento bellissimo, soprattutto molto interattivo. Il pubblico ha partecipato tantissimo. Abbiamo fatto lo stesso con il libro poi di Caterina Falconi, con il Noir, che parlava appunto di abuso narcisistico, di dipendenza affettiva. Che è un tema caldissimo purtroppo. È purtroppo di femminicidio, purtroppo è ancora un tema molto molto caldo, molto attuale. E lì è stata con noi la dottoressa Raffaella Di Gregorio, psicologa, psicoterapeuta, e quindi ci ha parlato di quali sono i meccanismi poi che innescano questo tipo di abuso. Quindi è stato anche lì molto toccante, il pubblico ha partecipato tantissimo. Beh, anche istruttivo, perché molte volte conoscere meccanismi dietro ci aiuta anche a prevenire poi dei comportamenti sbagliati o l'accettazione sbagliata di comportamenti inaccettabili. E ad esempio nel libro poi di Elsa Flacco, di Augustea, sulla storia di Roma abbiamo avuto come ospite la dirigente scolastica, la professoressa Eleonora Magno, ha fatto un intervento bellissimo. Elsa Flacco è molto coinvolgente, però anche è veramente coinvolgente nelle sue presentazioni, ma la professoressa Eleonora Magno ha fatto veramente un intervento importante, soprattutto sulla figura di Cecilia Metella. Abbiamo scoperto, grazie anche alla presentazione di questo libro, quanto ad esempio i diritti delle donne fossero riconosciuti nell'antica Roma. Esisteva già il divorzio, ad esempio, e Cecilia Metella era una donna assolutamente libera, no? Molto moderna anche. Credibile come si debba poi combattere per riacquisire diritti che in realtà erano già scontati, ma forse dovrebbero esserlo comunque tutt'oggi. Nel libro invece di Roberta Scorranese, A questo serve il corpo, ed è un libro declinato al femminile anche questo, ed è stato un viaggio bellissimo attraverso il corpo delle donne, quindi con i più grandi autori, diciamo i più grandi pittori, i più grandi artisti che hanno ritratto le donne, e lì c'è stato un confronto molto interessante con Carmine Di Giandomenico, che è fumettista di fama internazionale, e quindi abbiamo messo a confronto la sesta arte, che è quella del fumetto, con l'arte pittorica, e ne è venuta fuori una cosa anche, insomma, bella. Invece con Edda Migliori abbiamo dialogato io e Clementina Chiavatti, che è un'insegnante, e quindi anche lì abbiamo approfondito appunto il tema della condizione femminile in Abruzzo, soprattutto nell'entroterra bruzzese, insomma, qualche anno fa, e insomma c'è stata anche lì una bellissima, insomma, emozione, perché ci sono stati dei racconti che parlavano, un racconto in particolare che parlava purtroppo della depressione post partum, vista come una malattia da chiudere, e quindi, insomma, all'epoca a Teramo c'era il manicomio, e quindi succedevano queste cose, quindi un'ignoranza veramente che, insomma, in questo caso, in questo senso abbiamo fatto per fortuna dei passi avanti, però ci sono altre condizioni che... Invece con Peppe Millant avevamo previsto la presenza di Mattia Pompei, che avrebbe dovuto fare una graforecensione in diretta del libro, e quindi, insomma, volevamo vedere cosa veniva fuori, però purtroppo c'è stato un imprevisto e lui non è potuto essere con noi, questa cosa un po' ci è dispiaciuta, però ecco, quindi abbiamo cercato in ogni presentazione di approfondire con, insomma, con esperti, comunque di poter dare anche un contributo, oltre il libro, anche sul tema che andavamo a trattare. Certamente sono stati tutti autori, insomma, brillanti, sono libri interessanti, tutti interessanti. Beh, poi la selezione non deve essere facile, perché poi quando si organizza una rassegna così, insomma, bisogna stare attenti al tema, all'autore, alla scrittura, insomma, ai differenti generi, al pubblico che può essere interessato, quindi deve essere ogni volta una bella sfida. Poi per lei non è la prima volta, perché io mi sono un po' informata, no? Lei in realtà si prodica per la comunità, portando un messaggio, appunto, cercando di divulgare la cultura, la lettura il più possibile, già da molto tempo, no? Sì, però diciamo che Montorio in realtà ci chiama a fare questo, perché è una comunità molto ricettiva, non soltanto per quanto riguarda, ma diciamo per quanto riguarda la cultura, declinata in qualsiasi modo, per la musica, per... Ci sono tanti artisti a Montorio, infatti, tantissimi. Quindi è veramente un fulcro di artisti ed è molto bello, ed è molto bello interagire con loro. Infatti abbiamo voluto creare un momento conviviale alla fine di ogni presentazione con i prodotti tipici di Montorio, quindi il bocconotto e il cotto d'amore. Una grande fierezza, devo dire. Il cotto d'amore. E questo è stato bello, perché la nostra idea di creare aggregazioni intorno alla cultura ha proprio funzionato, perché alla fine di ogni presentazione è stato bellissimo poi parlare, scambiarsi opinione attorno, diciamo, a questo tavolo che comunque ci invitava alla convivialità, no? Quindi allo scambio. E insomma, sì, ci si sono trattenute le persone e questa cosa è stata bella. E poi quando si vede una risposta positiva vuol dire che si sta lavorando bene è che la comunità per cui si sta lavorando è ricettiva, quindi sono due cose che vanno di pari passo, no? Sì, e devo dire che questa, diciamo, comunità così ricettiva è, diciamo, apprezzata e vista di buon occhio anche fuori. Sono venute tantissime persone, ad esempio da Teramo, ma sono venute anche da Roseto, da Giulianova, da Arsita, da tanti luoghi e anche, insomma, fuori provincia. Quando abbiamo presentato il fuori rassegna, abbiamo lì, abbiamo raggiunto veramente l'apice, no? Eh sì, raccontiamolo per chi se lo fosse perso, perché noi l'abbiamo documentato. È venuto Henry De Luca a presentare il suo ultimo capolavoro, Le Regole dello Shanghai, che, devo dire, ha coinvolto tantissime persone ed è stato un momento veramente interessante e profondo. quindi, devo dire che, insomma, che poi penso che il successo della rassegna sia sì rappresentativo quando arriva il nome, però forse ancora di più quando si parla dell'artista emergente oppure della persona ancora poco conosciuta e quando questo riesce a coinvolgere anche chi non la conosce vuol dire che comunque le persone si fidano anche di chi propone, no? l'artista o comunque di chi organizza la rassegna, quindi penso che sia una soddisfazione. Sì, infatti la scelta, diciamo, non è mai facile, perché incontrare i gusti, no? Di tante persone. Per questo comunque la cosa che abbiamo tenuto più di tutti, diciamo, alla quale abbiamo tenuto di più è stata quella di raggiungere comunque un pubblico di età variegata, quindi dal più piccolo fino al più grande, quindi bambini, ragazzi, generi diversi, ogni libro affrontava un genere diverso sicuramente, penso che è un'ottima cosa per l'editoria locale dare questo spazio, quindi dare uno spazio di visibilità agli editori locali, agli autori locali, anche nazionali ovviamente, però l'editoria locale sicuramente ha bisogno di questa spinta. e naturalmente è stato bello anche avere un autore di spicco come, diciamo, un autore internazionale come Erri De Luca. Diciamo, non ce l'aspettavamo, neanche noi ci abbiamo provato, Erri De Luca è stato gentilissimo ad accettare, tra l'altro abbiamo notato una cosa bellissima che non accade mai, lui ha presentato il suo libro in piedi davanti al suo pubblico per tutto il tempo perché lui ci teneva a guardare negli occhi tutte le persone che lo erano venute a seguire. Erano più di 150 persone, avevamo allestito, grazie anche a voi, avevamo allestito nella stanza adiacente un video per la diretta streaming perché in quella sala non ci entravano tutti ed è stato, diciamo, commovente. Poi con Erri De Luca si toccano temi importantissimi, quindi è veramente arricchente ascoltarlo e, insomma, per me è stata una grande emozione e sono stati... la presentazione poi doveva essere in coppia con Maria Cristina Marroni che purtroppo si è ammalata e, insomma, per fortuna avevo previsto la coppia e quindi Peppe Millanta è stato bravissimo. Assolutamente sì, è stato assolutamente all'altezza della situazione. Veramente bravo e Laura Margherita Di Marco, insomma, poi, che è un'attrice di teatro, ha dato veramente, insomma, un tocco alle letture, no? Molto partecipate. Quindi siamo molto contenti e ringraziamo tutti coloro che sono venuti anche dall'Aquila, da Pescara, praticamente da tutti i luoghi, da Brusso. Le chiedo, come è nata questa passione? Perché non è solo la passione per la lettura e anche per la divulgazione poi della cultura. Sì, infatti, diciamo, quello alla quale, insomma, tengo di più è proprio aggregare, no? È proprio... ed è bellissimo l'aggregazione intorno alla cultura, intorno ad un libro. È una cosa veramente molto bella perché, tra l'altro, poi il libro che scegli, magari, tocca dei temi, anche attuali, sui quali poi ci si può confrontare. Quindi è anche motivo, sicuramente, di crescita. E, ripeto, insomma, abbiamo un, diciamo, un paese che veramente ce lo chiede. Perché risponde alla grande, ma da sempre. io non sono di Montorio, sono di Teramo, sono a Montorio da 40 anni, ma devo dire che è un paese molto ricco, ricco culturalmente, un paese che ama le sue origini, la sua cultura, ma ci sono tantissimi artisti validi, persone valide e è vero che io mi occupo, ma ci sono tantissimi volontari, tantissime associazioni che fanno tanto per il paese. E non è da poco, devo dire. Assolutamente. C'è un grande orgoglio, orgoglio proprio, sì. Bene, ma si legge anche nei suoi occhi quando ne parla, comunque si vede che c'è una bella comunità calda, calorosa, attiva, responsiva e veramente non è da poco. Sono felice, diciamo che sono stata accolta in maniera splendida da questo paese che, nel quale mi trovo veramente bene. E c'è anche un altro fuori cartellone allora, perché poi lei ci ha svelato una piccola chicca, quindi diciamola a chi fosse interessato, perché voglio dire ci sarà un ospite importante tra qualche giorno proprio qui a Montorio Alvomano. Sì, diciamo i fuori rassegna ci ha portato Enri De Luca ma domenica 17 ci porterà Donatella di Petrantonio, la nostra bravissima, importantissima, diciamo una delle scrittrici più importanti del panorama diciamo letterario contemporaneo italiano, di fama internazionale, il suo libro L'Arminuta è stata tradotta in tantissime lingue, ha generato anche un film di grande successo e Donatella di Pietrantonio è un'autrice straordinaria perché scava dentro proprio, con una forza narrativa incredibile anche questo libro ha una grande potenza una grande potenza narrativa e nonostante lei lavori nella sua scrittura per sottrazione perché la sua scrittura è molto molto asciutta eppure riesce comunque a farci entrare anche nei silenzi nei non detti ma è quell'essenzialità forse che fa la differenza poi nella narrativa noi siamo onoratissimi di averla domenica volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Montorio Alvomano che ha patrocinato e ha finanziato l'evento che ha creduto in questa rassegna e quindi grazie anche al loro contributo al contributo dell'amministrazione comunale e naturalmente ringrazio tutti i collaboratori diciamo che da soli non si fa niente questo è un lavoro di squadra di gruppo e quindi la collaborazione è stata importante la ringrazio per la disponibilità sicuramente seguiremo quindi i prossimi avvenimenti con grande con grande interesse la ringrazio allora grazie grazie a voi grazie a voi